Però oggi si scala Perché se prima l'abbiamo mai detto poi viene un altro altro Mi vergogno proprio di questa vita Esiste anche un abbonamento da poter fare mensilmente? E dove si fa se va al tabaccaio? Prova a chiedere al tabaccaio oppure deve andare Scenda qua La prima tabaccaio E non hai idea di quanto è costo mensile? 38, 39 Cazzo no Mi sbaglio eh Sì 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 Io non è che vado tutti i giorni però ho visto guardare all'ospedale dovevo vedere Grazie dovevo vedere Iniziamo Iniziamo Trocala Questa l'abbiamo Questa l'abbiamo E ora Io non ci spio C'è Bop E' Bop di Aprezz來了 C'è Ciboc Ciboc Il Chico È un boperto Ciboc È un boperto che dipesa passata io ci ho messo un po' 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 a me ne vedi più non mi gioca niente in sigla l'ultimo che passa stasera questa è la linea d'orario magari oggi la mattina come anche la domenica la partenza 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 Ok, non lo so. Ok, non lo so. Tu ti asciugà! Oh, tu ti asciugà. Oh, tu ti asciugà! Dai! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.